Boom amici di UnPadx2! Al mondo esistono tre tipi di aziende, quelle totalmente trasparenti, quelle decisamente meno trasparenti e poi c'è la Playtime Co, che ha deciso di opporsi con tutte le proprie forze al concetto di onestà e trasparenza. Vi abbiamo già parlato del report segreto sull'esperimento 1186, la tristissima storia della creazione di Bobby Berag. Ecco, e se pensavate che quello fosse il punto più basso raggiunto dall'azienda di Elliot Ludwig, vi sbagliate di grosso. All'interno dell'Orientation Notebook PW il nuovo misterioso personaggio della serie ha raccolto altri otto rapporti tenuti segreti dalla Playtime e oggi siamo qui per analizzarli uno per uno. Prima di cominciare però dobbiamo farvi vedere una cosa. Allora fino ad oggi quando volevamo farvi vedere del materiale abbiamo sempre dovuto lavorare un po' come degli scappati di casa, ma finalmente le cose stanno cambiando perché grazie a FlexiSpot ora possiamo farlo come delle persone serie. Ci è stata inviata questa scrivania automatizzata FlexiSpot E7 che ha la fantastica caratteristica di poter essere regolata in altezza a piacimento. Ora potremmo dirti che ne esistono due varianti, una che si alza da 58 cm fino a 123 e una che da 68 arriva a 133, che supporta fino a un carico di 125 kg e che può memorizzare fino a 4 altezze, che ha una porta di ricarica USB e un sistema anticollisione, nonché un sistema di sicurezza per i bambini, ma preferiremmo mostrarne una situazione tipica. Poniamo che stiate acquistando la vostra nuova scrivania FlexiSpot approfittando degli sconti e delle promozioni che l'azienda farà ad agosto per festeggiare il suo ottavo anniversario e che un ospite indesiderato venga a curiosare. Normalmente dovreste chiudere il vostro computer e lanciarlo in fondo alla stanza, andando a spendere così una cifra per acquistarne uno nuovo, ma grazie a FlexiSpot potete semplicemente alzare la vostra scrivania fino ad un'altezza non raggiungibile dal vostro intruso. E quando quel furfante si sarà arreso potrete tornare al vostro lavoro premendo semplicemente un tasto. Grazie FlexiSpot, questa scrivania è flextastica. Molti di voi ormai conosceranno sicuramente il povero Thomas Clark. Impiegato della Playtenco dal 1955, a 59 anni, in seguito a una malattia che l'avrebbe condotto alla morte, ha deciso di sottoporsi agli esperimenti dell'azienda. Gli scienziati pensarono che il contenitore più adatto per Clark fosse Bron, il dinosauro rosso e giallo. L'esperimento sembrò inizialmente andare bene. Il trasferimento andò a buon fine e Thomas Clark si risvegliò nella sua nuova forma. L'uomo tuttavia non capiva cosa fosse successo. Le sue facoltà mentali si erano ridotte drasticamente e 1199 sembrava estremamente più disorientato di quanto ci si aspettasse. Un problema del genere però si sarebbe anche potuto risolvere. Con un po' di tempo Clark si sarebbe potuto orientare e avrebbe potuto prendere confidenza con la sua nuova esistenza. Gli altri giocattoli però non sembravano della stessa idea. Non percepivano 1199 come uno di loro e addirittura si dimostrarono ostili nei suoi confronti, arrivando ad attaccarlo. Il team che andò a salvarlo riuscì a recuperarlo vivo per miracolo. I danni che aveva subito erano gravissimi e ci vuole un intervento di 12 ore per sistemarlo. Ad oggi il soggetto 1199 è tenuto in isolamento, separato da tutti gli altri e gli scienziati aspettano direttive sui provvedimenti nei suoi confronti. Un po' di tempo fa è apparso sul canale di Mob un video misterioso in cui si documentavano la fuga, l'inseguimento e il recupero di Hagiwagi. Oggi possiamo finalmente leggere il rapporto della sicurezza relativo all'evento che costò la vita 5 persone. La sera del 18 giugno 1992 Hagi è scappato attraverso un condotto di ventilazione sotto gli occhi di due membri dello staff che hanno dato l'allarme alle 22.27. Tre minuti dopo, alle 22.30, il team di recupero è stato mobilitato ma data l'impressionante velocità di 11.70, l'esperimento si trovava già a quasi 800 metri di distanza. Il team tuttavia riuscì a rintracciarlo nella foresta. Uno dei membri provò a sparargli del tranquillante ma Hagi fuggì investendo col proprio corpo il veicolo dell'uomo. Alle 22.38 il team lo localizzò nuovamente ad un incrocio e sparò immediatamente il tranquillante. Hagiwagi tuttavia rimase cosciente e qui sul rapporto si legge un appunto sulla scarsa efficacia dei tranquillanti. 11.70 è scappato ancora una volta verso la foresta e ha attaccato un cervo per nutrirsi. Alle 23.34 un altro membro del team è finalmente riuscito a localizzarlo per l'ennesima volta. Il raggio di ricerca a questo punto è stato espanso di quasi 6,5 chilometri, andando a comprendere anche un'area residenziale. Hagiwagi è stato recuperato infine alle 3.38 del mattino. Era immobile davanti ad una casa e nessuno è stato in grado di comprendere le sue intenzioni. PW aggiunge un appunto a questo rapporto in cui afferma che la Playtime Co. abbia fatto il possibile per coprire l'incidente. Secondo lo scienziato la fuga è dovuta ad una semplice negligenza da parte di chi avrebbe dovuto badare ad Hagi. Ma a prescindere si dovette chiudere la fabbrica al pubblico per ripulire tutto. Finalmente torniamo a parlare di lui. 10.06. L'esperimento più inquietante e pericoloso della Playtime Co. Il prototipo. Del soggetto si dice che il team si sia meravigliato della sua intelligenza. PW tuttavia su un posti aggiunge che sia molto più facile gestire un cane che non sia così furbo. Sono proprio gli esemplari intelligenti a creare più problemi. E ovviamente il rapporto prosegue indicando i problemi causati dall'intelligenza del prototipo. La situazione che stiamo per andare a leggere è quella che fino ad ora c'era stata solo spiegata tramite un video recuperabile nel secondo capitolo di Poppy Playtime. Il prototipo in qualche modo è riuscito a smontare una sveglia digitale nella propria stanza e a costruire un puntatore laser. Strumento che ha poi usato per disabilitare le telecamere di sicurezza della sua cella. Quando l'immagine è tornata circa 30 secondi dopo sembrava essere scappato. Il prototipo in realtà stava solo sfruttando un angolo cieco per illudere la sorveglianza. Il suo piano ha funzionato alla perfezione. Il team della sorveglianza è stato mandato a controllare e a ritrovarlo. Ma nel chiudere la porta della cella un membro della squadra venne chiuso dentro con il prototipo. Lo staff sapeva benissimo che 10-06 fosse violento ma ciò che fece tolse ogni dubbio. La guardia venne brutalmente uccisa dal prototipo senza alcun apparente motivo. La persona che ha redatto il rapporto però un'idea ce l'ha. È convinta che il prototipo l'abbia fatto semplicemente perché voleva farlo. E voleva farlo perché voleva versare del sangue. Questo aspetto di 10-06 è per i suoi osservatori allo stesso tempo inquietante e interessante. Anche in questo caso però i post-it di PW vanno ad arricchire il report. Innanzitutto ammette di non sapere assolutamente cosa voglia il prototipo e perché si comporti così. In secondo luogo, secondo PW, 10-06 andrebbe distrutto. Ma pare che il dottor Sawyer non sia della stessa idea. L'intelligenza del prototipo lo rende un essere dal valore incalcolabile. Troppo prezioso per qualcuno come Sawyer. Mommy Long Legs è un personaggio che probabilmente è durato fin troppo poco ma sicuramente è rimasto impresso a tutti noi. Nell'Orientation Notebook abbiamo modo di leggere un rapporto della Playtime in cui vengono raccolte quasi tutte le informazioni su di lei che potevamo trovare nel secondo capitolo. Inizialmente si pensava che l'esperimento 12-22 Mommy Long Legs fosse un fallimento, un essere decisamente troppo ostile per essere inserito in un ambiente di lavoro. Ma il team di scienziati l'ha osservata a lungo e ha scoperto una caratteristica che non era stata in alcun modo prevista. 12-22 ha dimostrato una natura materna e protettiva nei confronti degli altri esperimenti che andava oltre ogni aspettativa e proprio per questo si decise di impiegarla nella Game Station. Il suo compito era badare agli orfani e l'idea si rivelò vincente. Mommy era gentile e non faceva emergere il suo lato violento davanti ai bambini. Le piacevano i giochi e i suoi arti elastici le permettevano di aiutare a tenere sotto controllo tutti i ragazzi in un'area così grande. Gli orfani tuttavia si chiedevano cosa fosse. Avevano capito che non si trattava né di una marionetta né tantomeno di una persona in costume, ma lo staff è riuscito a convincerli ad accettarla così com'era. Il dottore riteneva che fosse un ottimo modo per prepararli a ciò a cui sarebbero andati incontro dopo. Il legame tra gli orfani e Mommy Long Legs si è poi ulteriormente rinforzato quando è stato lanciato il giocattolo con le sue fattezze. La vedevano come qualcuno di più familiare, ma alcuni impiegati della Game Station continuavano ad avere riserve sulla sua stabilità emotiva. 12-22 reagiva molto male quando scopriva che uno degli orfani barava, e lo stesso succedeva quando si rendeva conto che alcuni fra gli orfani partivano per poi non tornare mai più. Aveva inoltre l'abitudine di aggirarsi in alcune aree esterne alla Game Station in cui i lavoratori che non avrebbero dovuto sapere della sua esistenza erano in grado di vederla. Per mettere a tacere certe voci che si erano diffuse, la Playtime diramò un comunicato in cui affermava semplicemente che quella strana creatura fosse un ragno e che non ci fosse nulla da temere. PW sapeva benissimo cosa fosse l'esperimento 12-22 e si stupì parecchio di come gli impiegati credettero alla storia della Playtime, anche perché se un ragno del genere fosse esistito davvero, probabilmente nessuno sarebbe sopravvissuto. Ciò che noi sappiamo e a cui non si fa riferimento in questo rapporto è Mary Payne, la vera identità di Mommy Long Legs, la bambina su cui fecero terribili esperimenti per poi trasformarla nell'essere che c'è dato la caccia nel secondo capitolo di Poppy Playtime. Lungo la nostra esplorazione della Playtime abbiamo modo di conoscere indirettamente Rich, un burbero impiegato a cui il modo di lavorare di quell'azienda proprio non andava giù. Rich aveva un confidente all'interno dello staff, una persona di nome Avery. Un memo della sicurezza destinato alle risorse umane però potrebbe portare a pensare che Avery in realtà non fosse poi così amico di Rich. Al suo interno si legge che il lobby è stato colto ad avere conversazioni con i suoi colleghi. Ciò che non piace alla Playtime però è l'argomento di queste conversazioni. Una volta lamentandosi del non riuscire a trovare delle box per i giocattoli d'aggy-waggy, Rich avrebbe detto testualmente Nessuno in questa stupida compagnia sa cosa stia facendo e avrebbe aggiunto che il magazzino sia stato riempito con immondizia da orfanotrofia. La security raccomandò quindi la riassegnazione di Rich al reparto dei giocattoli scartati. L'autore del memo sottolineò infine che non fosse necessario prendere provvedimenti nei confronti di Avery, il collega di Rich. Un po' strano questo voler tenere fuori Avery da qualsiasi coinvolgimento. E infatti PW in un appunto scrisse che Avery, che Rich reputava amico, potesse essere proprio la persona che l'aveva segnalato. Il terzo capitolo di Poppy Playtime ci ha mostrato per la prima volta il fumo rosso, una sostanza misteriosa che abbiamo sperimentato in prima persona esplorando il Playcare. E oltre il rapporto diffuso tramite l'ARG che ha preceduto Deep Sleep. Possiamo finalmente leggere qualcosa di nuovo all'interno dell'Orientation Notebook contenente alcune osservazioni. Il gas denominato fumo rosso è stato utilizzato ogni notte sui residenti del Playcare. Lo scopo andava ben oltre il voler facilitare il lavoro ai consulenti assicurandosi che i bambini dormissero a lungo tutte le notti. Volevamo assicurarci di dare loro un sonno di qualità. Le nostre osservazioni sono estremamente positive. Aver suggerito di dormire sotto l'effetto del fumo rosso non solo ha dato loro più energia, ma ha anche migliorato le loro funzioni cerebrali durante il sonno. I bambini hanno mostrato migliore memorizzazione e una migliore gestione delle emozioni durante la giornata. Tutto ciò può quindi aiutarli a raggiungere il loro massimo potenziale. Alcuni problemi sono stati osservati in una ristretta cerchia di individui. Sono stati riscontrati intensi incubi ed episodi di sonnambulismo accompagnati da un'anomala attività cardiaca. A ciò si aggiungono pupille dilatate, forti allucinazioni, brividi e nausea. Alla luce di queste osservazioni si è discusso in merito al continuare con l'utilizzo del fumo rosso. Secondo alcuni si dovrebbe continuare, secondo altri smettere, ma il sentimento generale è che i pro di questa sostanza siano superiori ai contro. In linea di massima sappiamo bene che quel fumo era tutto fuorché una sostanza salutare. Il rapporto su Mary Payne è abbastanza chiaro. La sofferenza di chi lo sperimentava era indescrivibile. Noi stessi abbiamo provato i suoi effetti all'interno della Home Sweet Home, anche se, a quanto pare, su di noi ha causato solamente inquietanti allucinazioni e un sonno estremamente pesante. Ciò che resta da scoprire è l'associazione tra il fumo rosso e la trasformazione effettiva dei bambini in giocattoli. Non abbiamo ancora un'idea precisa su ciò che succedesse e speriamo che il quarto capitolo possa darci qualche risposta in più. Quello che stiamo per vedere invece è un rapporto del tutto nuovo apparso per la prima volta su Orientation Notebook e scritto niente meno che da PW e rivolto esclusivamente al team di scienziati. Il soggetto del rapporto è il nostro caro 1188, CATNAP. PW dice che in seguito al trasferimento nel suo nuovo corpo, il soggetto 1188 è stato messo in contenimento per un piccolo periodo di assestamento. Un team di sicurezza tuttavia non ha chiuso la cella di CATNAP nel modo giusto. 1188 è quindi riuscito a liberarsi e loro hanno tentato di rimetterlo in sicurezza utilizzando un'imponente dose di tranquillanti. Il tentativo è andato a buon fine ma è costato la vita a sei persone che CATNAP ha cacciato e ucciso una ad una. La visione di questo massacro sembrava uscita direttamente da un film horror. Sangue e corpi lungo i corridoi e qua e là ciuffi di pelliccia viola. PW aggiunge che d'ora in avanti si dovranno creare dei protocolli di sicurezza molto più efficaci. Perdere persone in quel modo è uno spreco in termini di risorse aziendali e soprattutto di vite. Tutti rispettano l'importanza del lavoro che si svolge all'interno della Playtime Co e il suo scopo ma se si vuole continuare a lavorare rispettando i programmi e le scadenze non si possono sovraccaricare i sopravvissuti sperando di mantenere lo stesso ritmo e un alto morale del personale. PW infine si dice disponibile ad incontrare piani alti per discutere con loro le sue idee per migliorare la sicurezza ed evitare situazioni simili in futuro. Non vuol vedere morire altri colleghi. Il rapporto purtroppo fu respinto e in un appunto PW sottolinea che nulla fu fatto per sistemare la situazione. Le vittime aumentarono e nessuno fece nulla per impedirlo. Le cose semplicemente stanno così e chi lavora la Playtime deve imparare a conviverci. L'ultimo rapporto contenuto all'interno del libro parla di qualcuno che abbiamo già incontrato. Rowan Stoll, lo sfortunato impiegato della Playtime che divenne la prima vittima di Boxy Boom. Il memo è stato scritto dalle risorse umane e inviato alla sicurezza. Il 30 marzo del 1991 un impiegato del dipartimento IT ha contattato l'Itpierre dicendo che alcuni ospiti di un tour avessero espresso la mentele in merito ad una statua di Huggy Wuggy che ha detta loro che avrebbe guardati direttamente. Rowan era convinto che all'interno degli occhi di Huggy ci fossero delle telecamere e quindi scrisse l'Itpierre dicendo di prendere la cosa seriamente ed eventualmente di rimuoverle per una questione di sicurezza dei visitatori. Il 28 maggio dello stesso anno Rowan ritrattò completamente le sue dichiarazioni dicendo a l'It che un ragazzo della manutenzione semplicemente non aveva fissato a dovere gli occhi di Huggy e quindi sembravano muoversi. Assicurò a l'It che non avrebbe causato alcun ulteriore problema in futuro dichiarando che non avrebbe mai più guardato Huggy negli occhi. Non che prima ci fosse qualcosa da guardare ma da quel momento a prescindere non ne avrebbe mai più parlato. In ogni caso Rowan non smise mai davvero di indagare e fece una registrazione in cui affermava che qualcuno avesse tentato di ucciderlo e che avrebbe rilasciato delle informazioni estremamente confidenziali. La dichiarazione era la seguente. Ho programmato i server della compagnia in modo che la prossima settimana si spengano per una sessione di manutenzione di 60 minuti. Mentre la sicurezza non sarà in grado di operare rivelerò tutte le informazioni e fuggirò. Penso tuttavia che mi uccideranno prima che io sia in grado di farlo. Il rapporto si chiude con la raccomandazione di prendere provvedimenti nei confronti di Rowan Stoll. PW allega un appunto in cui si afferma che la morte di Rowan sia in seguito stata ripresa e che lui sia diventato appunto la prima vittima di Boxing. Con questo rapporto si conclude una parte dei segreti contenuti all'interno di questo preziosissimo libro ma chiaramente ci sono ancora tante cose da portare alla luce in vista del prossimo capitolo di Poppy Playtime. Quindi se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, condividetelo e lasciate un like. E noi ci rivediamo ad un prossimo video.